Ciao a tutti! Allora, spero di non avere la testa tagliata dallo schermo cerco di rimettermi un po' in pari con i video e appunto cercherò di girare un po' tutti i video, devo farvi la review di questi la review di questo, ma in questo video vi parlerò, appunto, vi farò la review del Velvet Smooth di Shul questo qua mi era stato regalato, mi sembra, per Natale, per Befana ed è un prodotto non indispensabile, però utile praticamente che cos'è? Allora, è questo manico che appunto si strappa così e ha poi tre lime il primo step, il secondo step e il terzo step qui on e off e questo attrezzino parte il primo step è la lima, quindi serve per appunto limare le unghie vi assicuro che le va a limare molto bene senza andarle a sciupare o a spezzare quindi questo è il primo step, limare le unghie poi c'è il secondo step, che invece è molto più delicato del primo step e serve per levigare quindi una volta limato si va a levigare le unghie, io questo qua lo utilizzo anche qua intorno lo utilizzo un po' su tutta l'unghia e infine il terzo step c'è scritto che serve per lucidare e infatti è molto molto liscio e va passato sopra l'unghia allora io questo qua l'avevo vista alla pubblicità dove appunto vi faceva vedere la signorina che lo utilizzava su piedi e sulle mani lì venivano queste unghie brillantissime, talmente tanto lucidate che sbrilluccicavano allora vi posso dire che questo appunto come vi dicevo mi è stato regalato da mia madre quindi nel senso l'abbiamo comprato, non mi è stato inviato vi posso garantire che effettivamente le lucida cioè proprio sono, sembra quasi di aver messo uno smalto trasparente dopo aver utilizzato questo prodotto è vero che se siamo di fretta e tutto quanto uno fa prima con la lima a mano e via, da una bottarella da una bottarella di lima e poi esce quindi ci vuole un attimino il tempo non è una cosa che si può fare tutti i giorni secondo me se non si ha il tempo però effettivamente le unghie risultano molto più curate belle lisce e effettivamente lucidissime dà anche l'idea di unghie sane col fatto che questo cosetto qua è elettrico quindi non devo stare io a limare ma lima da solo a volte mi capita che mi si va a intaccare o leggermente a sfogliare l'unghia ma non in cima a metà della lunetta bianca e quindi va limata da sopra per pareggiarla e fare in modo che non si vada a sfaldare del tutto e vi devo dire la verità che con questo prodotto questa azione qua viene benissimo perché appunto essendo elettrico voi l'appoggiate e va da sé e riesce a pareggiare l'imperfezione dell'unghia e a far sì che poi non vi si vada a sfogliare con il tempo quindi non so, non ho idea di quanto costi però comunque lo trovate un po' ovunque lo trovate a volte anche non ho visto d'acqua e saponi per shop però a volte si trova anche in sconto in farmacia non so i prezzi e poi vendono appunto la scasolina con le tre lime di ricambio è un prodotto che vi consiglio è un prodotto assolutamente promosso e se c'è qualcuno di voi che ce l'ha che l'ha provato appunto scrivete come vi siete trovati qua sotto nei commenti così abbiamo più opinioni più opinioni io vi saluto ringrazio voi per aver guardato il video e niente ci vediamo alla prossima ciao ciao